sono in questa veranda al ampia calda e luminosa in questo nuovo immobile che tra poco sarà in vendita un trivano estremamente compatto seminuovo la girando la gira e voi vi dico seguitemi perché tra poco sarà in vendita ad un prezzo veramente eccezionale perché potrebbe essere la vostra prossima casa io mi riscaldo voi mettete la mascherina e seguitemi posso vendere anche la vostra